Sono quasi 9.000 in provincia di Arezzo, fra adulti e bambini, le persone seguite dal Dipartimento Salute Mentale. Oggi, in occasione della Giornata Nazionale della Salute Mentale, l'azienda sanitaria ha organizzato una serie di iniziative per far conoscere alla popolazione servizi e attività, ristrutturazione della sede di via Curtatone e una mostra nell'ingresso principale dell'ospedale San Donato. Noi vogliamo ora porre ancora più attenzione all'area infantile e adolescenziale. In questo spazio noi svolgeremo maggiori attività, è più grande lo spazio, è ben colorato perché i colori contano, specie nel campo della salute mentale. Quanto è cambiata in questi anni la tipologia dell'utenza? È cambiata totalmente, è cambiata la tipologia dell'utenza, è cambiata l'offerta dei servizi, è cambiata l'attenzione a fasce d'utenza infantile e adolescenziale e non semplicemente agli adulti, è cambiata la tipologia di richiesta delle persone e è cambiata la tipologia anche di utenza. Un problema è forse quello delle liste di attesa ancora troppo lunghe, che cosa fate per affrontarlo e risolverlo? Quello che noi cerchiamo di fare è il primo smaltimento dei casi in carico, uso il termine smaltimento unicamente in termini di riuscire a capire chi deve essere curato nell'età infanziale e adolescenziale fino a qualità quando ha un senso continuare, fare degli interventi più brevi ma più intensivi, fare delle liste d'attesa assolutamente trasparenti in maniera tale che nel più breve tempo possibile i familiari sappiano se eventualmente rivolgersi a centri accreditati.